Tragedie della marmolada, inizio ottobre, attesa la consulenza sulle cause della Procura della Repubblica di Trento. E' infatti affidato l'incarico a esperti dell'Università di Siena e di Trento, che avranno il compito di verificare lo stato della regina delle Dolomiti e capire se la valanga che ha ucciso 11 persone si poteva prevedere. E' attesa dunque, inizio ottobre, salvo eventuale proroga, la consegna della consulenza chiesta dalla Procura di Trento, guidata da Sandro Raimondi per capire le cause del crollo di parte del ghiacciaio della marmolada che lo scorso 3 luglio travolse e uccise 11 alpinisti. L'incarico è stato conferito a luglio esperti di fama internazionale dell'Università di Siena, Dipartimento Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente e di Trento Ingegneria Idraulica per verificare lo stato della regina delle Dolomiti e la sagnazione della massa d'acqua che si è creata a causa delle alte temperature. Bisogna infatti ricordare che quella domenica in cima c'erano oltre 10 gradi. Gli accertamenti dei periti serviranno a capire se l'improvviso collasso del seracco terminale del ghiacciaio potesse essere previsto. Si tratta di una fase ovviamente delicatissima anche per i parenti delle vittime travolti dal dolore. Benotto le vittime venete di cui 7 residenti in provincia di Vicenza. Migliorano intanto le condizioni di salute dei feriti coinvolti nella valanga mortale di roccia e ghiaccio. Grazie. 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 Grazie.